Elodie e la maternità. La cantante Elodie ha recentemente affrontato il tema della maternità in un'intervista a Vanity Fair, rivelando il suo pensiero su una possibile futura maternità, ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l'ipotesi di congelare gli ovuli. Fino ad ora mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta, con queste parole, Elodie ha espresso le sue preoccupazioni, comuni a molte donne, che si trovano a bilanciare ambizioni professionali e desideri familiari. Elodie, che ha raggiunto traguardi significativi nella sua carriera musicale, ha condiviso un'intima riflessione sull'età e la percezione di se stessa. La vera verità è che ho 34 anni, eppure me ne sento 16. È strano. Sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po' Gian Burrasca. Questa dualità, tra la maturità necessaria per gestire una carriera di successo e la sensazione di essere ancora una giovane spensierata, solleva una domanda significativa, ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma. La questione è aperta e stimola una riflessione più ampia sulla conciliazione tra identità personale e ruoli sociali. In un'epoca in cui le donne sono sempre più chiamate a ricoprire molteplici ruoli, la testimonianza di Elodie invita a considerare la possibilità di trovare un equilibrio senza rinunciare a nessuna parte di sé. Secondo voi si può?